Ehi la ciurma, rieccoci qui nella Batcaverna dove avevo lasciato questo mondo prima di fare gli esperimenti di cui vi ho parlato nello scorso video Eeeh, come potete vedere, ho fatto un lavoro assurdo, voi non potete immaginare quanto cavolo di tempo ci ho messo Quindi ve lo dirò, ci ho messo praticamente, credo una cosa tipo 10 ore Sì, 10 ore di lavoro, ho passato una notte insonne completamente e un viaggio in treno di 2 ore e mezza, 3 Eeeh, per lavorarci E sono fermo a quando eravamo a 66 iscritti e non ho ancora messo né lampade né chest né letti dentro ogni casetta Ma le casette sono tutte poste e sono per 66, qua ne manca uno, sono 65 qua Questa non l'ho ancora fatta, acci d'erbolina cerbili coccola Ma non la farò adesso, vado a correggere semplicemente la, anzi faccio tipico, cittadina Ok, correggo il cartello E metto 65 Perché quella là non l'ho finita, quindi sono 32 da un lato e 33 dall'altro Eeeh, boh, questo mi pare di avervelo già fatto vedere, mi è servito parecchio Ah, ho risolto la questione dei word anchor che avevano dei problemi per il fatto No, forse ve l'ho già parlato No, credo di no Avevano dei problemi per il fatto che nel config di mine test c'è da gestire l'opzione per il massimo dei nodi caricati, no? Perché di base è 1, quello in cui 6 Mentre qua in questo caso bisogna aumentarlo Io l'ho messo a 500, mi hanno detto che è un numero abbastanza buono, 500 Per un caso del genere Eeeh, e a quel punto funzionano Funzionano i word anchor Eeeh, senza alcun problema Sapete che c'era stato il problema Che, appunto, talvolta funzionavano, talvolta no Ah, aspettate un attimo Vi faccio vedere ancora una cosa Però in fretta perché questo video non deve durare Troppo, purtroppo Allora Cioè Ho riempito una chest di Di un fracco di roba Cioè Cioè E non so neanche se ho della roba anche negli zaini Perché avevo anche gli zaini pieni a un certo punto Eh sì, infatti, guardate Uno No, solo uno Però Giusto per farvi vedere la roba che ho scavato Quante volte ho dovuto ricaricare i mining drill Eeeh E quante volte ho dovuto riparare il piccone Quante volte ho dovuto cuocere della cobblestone Quante volte, quante volte, quante volte Tantissime ore ci ho messo Eeeh E niente Allora, adesso andiamo a lavorare un attimo su quello che è il progetto della farm Che Eeeh Eeeh Di cui vi ho mostrato, diciamo, nello scorso video Che è assolutamente una cosa Che Sarà molto utile Soprattutto quella di cotone Perché Eeeh E' comoda per quello che Ci servirà, diciamo Fare Eeeh Allora, qua adesso dovrò Eeeh Rimuovere tutto ciò Assolutamente Perché Eeeh Eeeh No, questo lo lasciamo Anche se queste pipe Sono un po' problematiche Perché da qua scappa la roba Eeeh Eeeh Che eeeh Ripensare del tutto Al sistema Qua Perché Eeeh Appunto è da rivedere in base a quello che abbiamo fatto là Non so neanche se adesso conviene Lasciarlo qua O fare un altro spazio Pensavo magari che potrebbe anche essere carino Farlo in una zona sotterranea, diciamo Che eeeh Rimanga però caricata Magari vicino alla Batcaverna degli iscritti Alla Batcaverna della ciurma Una cosa del genere Però comunque avevo idea di prendermi un Buono spazio Anche se là avrei comunque da scavare Un'altra eternità Eeeh Fatemi sapere anche voi un attimo che cosa ne pensate Alla riguardo Se Eeeh Ah comunque Ma in test Continua a restarmi senza suoni Io non so come mai Ma Boh Continua a restare senza suoni Tra un po' magari aggiornerò la versione Vedremo che cosa succederà Eeeh Mi sono perso di cosa stavo parlando Si stavo dicendo Fatemi sapere la vostra Assolutamente Soprattutto tu Sam Alessandro Se per caso riesci a connetterti da qualche parte Mi farebbe molto piacere il tuo commento Eeeh Anche tu Uh 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 Se per caso vedi questo video Mi serve sapere che cosa ve ne pare insomma Di dove dovrei mettere questa Questa farm Perché qua occuperebbe effettivamente un po' di spazio E sarebbe un sacco di Node brick Un sacco di cavi Un sacco di cose che Sono molto Tecniche diciamo E magari non stanno tanto bene fuori In un praticello Magari qua potrei mettere Un pochettino più di cespugli Si non sarebbe male come cosa O magari spostare la farm Quella là di cactus E di carne da zucchero Una cosa del genere O magari mettere un campo di fiori In modo da In modo da Avere Più possibilità di farmare fiori Come potete vedere là C'è pieno di fiori arancioni Adesso Tra l'altro l'ho fatta io Quella cosa là Perché prima era tutto pieno di felci No? Si Quella laggiù in fondo Io ho messo dei fiori arancioni Perché mi piacevano i fiori arancioni Adesso è pieno di fiori arancioni Magari facendo spreadare Un po' così I fiori Possiamo comunque fare qualcosa Di più carino Che non una Una farm farmosa Che magari Boh non lo so Poi sono anche influenzato Degli youtuber Che ho visto giocare A A minecraft Che avevano appunto Delle Delle farm sotterranee E E Appunto le cose Tecniche Diciamo le nascondevano Sotterra Tra virgolette Che Non lo so A me è sempre Abbastanza piaciuta Come cosa Il fatto di mettere le cose Tecnologiche Impilate Nella stessa zona Della casa Poi Una cosa potrebbe essere Appunto anche comoda Per il fatto che Potrei magari far arrivare I cavi Con i tubi Che portano il pane E la lana Direttamente su E avere uno storage In casa Direttamente vicino Magari al letto Da quelle parti là Di 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 lana E di pane Che mi portano direttamente Sulla lana E il pane Che Sarebbe una cosa Davvero GG Forse da fare Sopra 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 Seppur Questa idea Non mi piace Per il fatto Che Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so Ma essendo Un tema Un po' Piratesco Una casa Più piani Mi sa tanto Di tecnologia Mi sa poco Di piratesco Non lo so Però effettivamente È un mondo tecnico Quindi che ci vuoi fare Nella cucina Era anche un'idea Ma non c'è spazio Se no Ecco Una bella idea Forse sarebbe Di fare Un piano interrato Della cucina Che per ora È rimasta Abbastanza Inutilizzata E Così appunto Il cibo e la lana Andrebbero là Nella zona della cucina Che forse È una buona idea Oppure Fare una zona Interrata qua sotto Anche fare una zona Interrata qua sotto Con i tubi Che portano Direttamente Queste ceste Non sarebbe male Con i tubi Che portano Lana e pane Direttamente Nelle ceste Qua dentro Sarebbe comunque Una cosa carina Però questo sarebbe Interrato Quindi non si vedrebbe Tutta questa Cosa Obrobriosa Adesso sto togliendo Tutto perché È da Sistemare Questa zona Adesso che dobbiamo Fare quel tipo Di farm È tutto un po' Da rifare Nel senso che I node breaker Vanno messi In un modo diverso Devo fare un sacco Di node detector Devo fare un sacco Di Sorting tube E Dei deployer E La configurazione Sarà Totalmente Diversa Quindi Adesso Vorrei Anche Togliermi La questione Dell'acqua Nonostante Avessimo Questa farm Praticamente Identica Così Da Da un sacco Di episodi Se qualcuno Di voi Se lo ricorda Magari Me lo scrive Nei commenti È da Tantissimi episodi Che la farm Aveva questa Configurazione Però Il mondo Cambia Tecnicamente Dovrei anche Cambiare quella Casa Che fa un po' Schifetto Effettivamente Potrei fare una Casa un po' Più carina Questa qua È molto più Carina Che non Quella Quel Garage Diciamo Alla Alla Yutobi Diciamo Come diceva Dark Angelcraft Ritornando a quello Di cui parlavamo Due episodi fa Detto questo Allora Io in questo episodio Ho parlato Praticamente Di cose Senza molta Utilità E Me ne dispiaccio Però Ragazzi Davvero Non ho tanto tempo Per fare questi episodi Io Aspetto Davvero molto I vostri commenti Visto che ho poco tempo Io Avete più tempo Voi per commentare Su dove vedreste bene Quella farm Di cui si parlava Nella scorsa Puntata Di cui si parlava Nello scorso episodio Con appunto Una Mettiamo una decina Di piante Di grano Una decina Di piante Di cotone Che però Completamente Automatizzate Sottoterra Dovrebbe funzionare Con le Lampade Quelle di Giordak Perché dice che Loro forniscono Abbastanza luce E quindi Mettendone Magari Una davanti Oppure Mettendone Una sopra Come avete visto Nello scorso episodio Il pezzo di terra Che serviva appunto Per coprire Il buco Dove finivano Giù i cavi Dovrebbe Fornire Abbastanza luce Per Proseguire Per permettere La farm Di crescere Insomma Detto questo Io vi saluto Vi auguro Una buona giornata Vi invito A lasciare Un mi piace Qua sotto L'episodio Perché mi serve Tantissimo Iscrivervi Se per caso Non l'aveste Già fatto Noi ci vediamo Ragazzi Ciao a tutti